Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico anche questa puntatona dal colore scrittura creativo la progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza Richard Matheson Words of Eve 1952 Fratello di una macchina, Brother to the Machine Fabola, visione introspettiva interamente centrata su un plot of thoughts di un robot che ha sviluppato autocoscienza la fabola di Matheson è permutata da iRobot del 1939 di Amazing Stories e sarà una delle genesi che, e quindi, creeranno le permutazioni di Hollywood in cortocircuito 1986, proprio il racconto fratello di una macchina quanto ai Robot del 1939 nella trama di Matheson c'è un colpo di scena finale in cui è endemica in questi modelli di robot la creazione di autocoscienza per un qualche difetto di progettazione che, però, non è riconosciuta dalla società degli umani narratore esterno non onnisciente focalizzabile sui personaggi che poi muta in narratore interno non onnisciente in prima persona per poi ritornare in narratore esterno non onnisciente focalizzabile sui personaggi l'intreccio si snoda in modo appreensivo interamente scentato sul punto di vista interno del robot diventato sensiente che, però, non brilla per acume e profondità di pensiero Format è un racconto di fantascienza più corto di altri è un bel esempio, a mio avviso, da studiare con attenzione per imparare a costruire sequenze complose da Popplot of Toots con il discorso in diretto libero per questa puntata è tutto un saluto ciao, alla prossima